la ministra roccella la bella ministra eugenia roccella contestata al salone del libro di torino vedete la situazione la vedete la vedete la vedete la situazione salone del libro a torino roccella contestata da un gruppo di attiviste la ministra confrontiamoci improvvisata una manifestazione al grido ma quale stato ma quale dio sul mio corpo decido io sì sì alla maniera di marco pannella cara ministra eugenia roccella ma te non ti piaceva marco pannella lo sai che marco pannella ha portato in italia il divorzio lo sai che marco pannella ha portato in italia l'aborto di stato perché prima prima dell'aborto di stato c'era l'aborto clandestino cara ministra eugenia roccella c'era l'aborto clandestino capito che si faceva con i medici cucchiai d'oro oppure con le mammane con le mammane cara e poi l'utero in affitto e famiglia arcobaleno ma lo sai che l'ucraina è piena zeppa di famiglia arcobaleno e di uteri in affitto bella cara buona ministra eugenia roccella eppure tu il tuo governo il tuo governo manda le armi all'ucraina e dentro l'ucraina c'è tanto tanto ci sono tante famiglie arcobaleno e ci sono pure tanti uteri in affitto ma voi del governo di giorgia meloni siete per dio padre e famiglia eppure dite che siete per dio padre e famiglia però mandate le armi all'ucraina santa madonna capito cara ministra cara ministra guarda che io sono questo signore qua e cara ministra sono questo signore qua cara ministra lo vedi chi sono io mi chiamo serafino massoni cara ministra ti voglio tanto tanto bene cara ministra eugenia roccella se tu vorrai farvi pervenire è il tuo preciso recapito postale cara ministra eugenia roccella io te manderò a mie spese ti farò pervenire una copia di qualche mio 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 libro guarda quanti libri che ho scritto cara va bene cara ministra eugenia roccella ricordati che io te voglio tanto bene a te ministra eugenia roccella al salone del libro di torino tanti cari saluti dai libri di serafino massoni